ciao benvenuti in questo nuovo episodio di everlasting summer allora continuiamo subito la storia shurik è ancora scomparso di lui non c'è nessuna traccia quindi insomma vediamo un po se in questo episodio riusciremo a trovarlo oppure no magari riusciremo a scoprire qualcosa in più staremo a vedere ma prima vi ricordo di lasciarmi un bel pollice in su e adesso io quasi quasi voglio provare ad andare nella foresta vediamo un po cosa scopriamo mi pareva ovvio che olga dimitriev nella sua squadra di pionieri avessero già esaminato ogni angolo del campo setacciandolo il lungo e largo quindi probabilmente era inutile cercare shurik alla mensa o alla spiaggia e nemmeno al circolo di cipernetica era la sua seconda casa o forse anche la prima forse valeva la pena di dare un'occhiata intorno alla foresta circostante non avevo intenzione di addentrarmi troppo nella foresta altrimenti sarei stato io colui che avrebbero cercato l'indomani nella mia vita ho visitato raramente le campagne durante la mia infanzia ero solito alloggiare in una casa di campagna in estate ma quella casa era molto vicina alla città in questo campo invece potevo trovare cose che non vedevo da molto tempo fitta vegetazione uccellini che cantavano aria fresca ok ho trovato un prato e mi sono seduto su un ceppo ma devi cercare shurik come tranquillo qui ma dove potrebbe essere shurik stando fermo non è che lo scoprirai forse è stato portato via contro la sua volontà magari da degli alieni questo campo non era affatto normale quindi le sparizioni di pionieri non dovevano essere una novità una teoria intrigante potrebbe essere stata opera della stessa forza paranormale che mi ha portato qui o è solo opera di una qualche entità del luogo immerso nei miei pensieri non ho notato che l'erba davanti a me ha iniziato a muoversi da sola ho guardato più da vicino ok e ho visto uno scogliattolo si è avvicinato a me che un cautela e ha fissato le mie mani probabilmente era abituato a farsi dare da mangiare qui scusa amico non ho niente per te ovviamente lo scogliattolo non poteva capire le mie parole e continuava a fissarmi immobile in attesa mi è dispiaciuto per lui perché non avevo nemmeno una briciola di pane nelle mie tasche mi sono reso conto che mi vergognavo persino di guardarlo negli occhi così ho deciso di proseguire ok andiamo avanti dopo un po di tempo mi sono ritrovato ai lavabili quindi non è neppure nella foresta o almeno non nelle vicinanze e addentrarmi oltre sarebbe stato spaventoso mi sono avvicinato a mi sono tolto la camicia e ho iniziato a sciacquarmi perché ero tutto sudato ma non è stato facile è un po difficile versarsi l'acqua addosso senza una ciotola o un mestolo improvvisamente ho sentito dei passi provenire da dietro chi è shurik mi sono girato ah no è lui elettroni che stava camminando verso di me stai cercando shurik sì anche tu anch'io senti tu lo conosci meglio dove credi che possa essere andato non ne ho la più pallida idea mi ha risposto con tristezza beh non capisco perché si sia alzato un tale polverone durante la notte non era in stanza con te allora non può essere sparito da molto tempo forse è andato a fare una passeggiata tu non conosci shurik ha detto elettronic scaldandosi lui dedica anima e corpo al suo lavoro la robotica e la cibernetica sono tutto per lui le persone come lui sono una su un milione anzi una su un miliardo il suo talento è sconfinato io mi preoccupo per lui è un uomo d'acciaio è semplicemente un genio in quel momento sembrava hitler che dava un discorso davanti ad una folla persino i suoi gesti erano simili ok e allora e allora non capisci proprio vero no dedica tutto se stesso capisci dedica tutto il suo tempo libero al nostro circolo tutto quindi sparire in questo modo è insolito da parte sua certo che sì ok allora gli è successo qualcosa di grave sicuramente elettroniche pareva essersi calmato un po ok mi ha guardato intensamente ha intenzione di lavarti non proprio volevo solo rinfrescarmi un po fa caldo anch'io si è guardato attorno speravo ci fosse un secchio un mestolo qualcosa per raccogliere l'acqua sì anch'io ho notato che non c'è niente allora facciamolo che cosa è andato dietro ad uno dei rubinetti e l'ha tirato su con mia sorpresa lo schizzo d'acqua si è diretto verso l'alto di circa 90 gradi invece di scorrere verso il basso era possibile lavarsi in quel modo wow nel frattempo elettroniche si è sbottonato la camicia se l'è tolta e si è accovacciato come se si stesse tirando giù i pantaloncini non potevo dirlo con certezza dato che era coperto dai lavabida la vita in giù ha diretto il flusso d'acqua verso di sé e ha iniziato a canticchiare tranquillamente puliamo il mio camin spazza camin sono rimasto senza parole non sapendo cosa fare sembrava che lui l'avesse notato appena ho finito te lo lascio usare oddio che brividi beh sai mi sono appena ricordato che devo fare una cosa devo scappare di tutte le eccentricità quella è stata decisamente la più strana ehi che ti succede una doccia fredda in un giorno così caldo la cosa migliore di sempre no 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 non credo proprio e comunque devo andare mi sono rimesso la camicia di fretta e sono tornato nella foresta ma che gli è preso e shurik sono andato a pranzo con sentimenti contrastanti con un senso di realizzazione e con la sensazione di aver sprecato del tempo prezioso la mensa era affollata non potevo passare inosservato olga dimitrievna mi ha chiamato simon vieni con noi la leader del campo slavia ed elettronic erano sedute ad un tavolo di quattro posti ho annuito e sono andato a prendere il mio pranzo questa volta ho dovuto aspettare in fila per diversi minuti il menù di quest'oggi non era molto diverso da quello degli altri giorni o almeno i piatti mi sembravano gli stessi dopo essermi seduto al tavolo e aver augurato buon appetito a tutti olga dimitrievna ha detto allora cosa ne pensi riguardo a cosa abbiamo cercato shurik dappertutto è già mezzogiorno forse è successo qualcosa di brutto ho notato la rima ma non volevo farglielo notare abbiamo cercato in tutto il campo io ho guardato tutto attorno alla foresta circostante olga dimitrievna mi ha guardato e anche io ho contribuito alle ricerche dobbiamo chiamare la polizia quindi esiste la polizia in questo mondo forse dovremmo aspettare fino a sera ho chiesto pigramente può darsi che sia tornato a casa sua è impossibile shurik abita migliaia di chilometri da qui forse ha preso il treno la stazione più vicina ha fatto una pausa è molto lontana adesso sì che la cosa stava diventando interessante tutte le volte che la conversazione sta per toccare i possibili modi in cui potrei abbandonare soviorok tutti cambiano discorso quanto lontana davvero lontana la leader del campo mi ha guardato cercando di farmi capire che sarebbe stato meglio non fare ulteriori domande allora dovremmo addentrarci più in profondità nella foresta forse si è perso shurik porta sempre una bussola con sé è intervenuto elettronic mi chiedo cos'altro si possa trovare nel suo giubbotto magico sempre che ne abbia uno se io mi perdessi nella foresta una bussola mi servirebbe a poco la polizia dovremmo chiamare la polizia questa sera non in questo preciso istante almeno ok allora lo farete più tardi sono rimasti tutti in silenzio dovremmo riuscire a trovarlo prima di sera c'è ancora tempo se davvero si è perso allora non abbiamo tempo da perdere non possiamo averne la certezza allora dov'è dove c'era un fondo di verità nelle parole della leader nascondersi per l'intera giornata in quel modo era sospetto perché l'avrebbe fatto shurik sembrava essere un pioniere piuttosto serio tale comportamento sarebbe stato più adatto a juliana quindi c'era motivo di pensare che se ne fosse andato tutto quello che si poteva fare l'abbiamo fatto adesso dobbiamo solo aspettare slavia elettronic ed olga dimitrievna mi hanno guardato addolorati senza aggiungere altro tutto molto sospetto ho finito il mio pranzo ho riportato il vassoio e me ne sono andato e ancora la prima metà della giornata e adesso il campo sembrava essere pronto per un pisolino pomeridiano solo genda mi osservava attraverso i suoi occhiali ovviamente stavo osservando qualcos'altro ma avevo la sensazione che mi stesse fissando in continuazione scommetto che lui sa dove si sta nascondendo shurik ma non può dire una parola la scomparsa del capo del circolo cibernetico mi ha fatto riflettere forse qualcosa che ha a che fare col mio caso o pioniere l'infermiera stava davanti a me l'ho guardata con curiosità va a prendere il mio posto all'infermeria ho una chiamata urgente qualcuno è rimasto ferito io sì tu prendi le chiavi e quindi l'infermiera mi ha lanciato le chiavi ed è corsa via perché proprio io non c'è nessun altro in questo campo e che cosa dovrei fare esattamente cosa farò se dovesse succedere qualcosa ah e adesso che faccio ho perso la mia occasione di rifiutare sono rimasto in piedi davanti alla porta indeciso da una parte non c'è nulla di cui preoccuparsi starò qui per mezz'oretta e poi lei tornerà ma cosa faccio se qualcuno verrà qui in cerca di aiuto o magari con una gamba rotta o con una ferita alla testa ho iniziato a preoccuparmi un po' troppo speravo di non dover occuparmi di ferite più gravi di qualche livido o graffio ma allo stesso tempo non potevo negare che in una situazione grave sarei stato del tutto inutile non so nemmeno come fare un massaggio cardiaco la mia attenzione si è posata su una rivista che stava sulla scrivania dell'infermiera un bel modo per rilassarsi suppongo era intitolata fashion sovietica la data di e no dai non ci credo io stavo proprio pensando a questo la data di pubblicazione però non c'era non ero sorpreso c'erano cose molto più strane di questa non ne sapevo molto di riviste sovietiche forse davvero non riportavano la data di pubblicazione su di esse no è impossibile modelle che indossavano abiti fuori moda mi fissavano dalle pagine patinate al giorno d'oggi nessuno indosserebbe certa roba ho ridacchiato mi chiedo se slavia consideri queste cose alla moda posso solo immaginare cosa accadrebbe se lei apparisse nella mia realtà indossando qualcosa del genere stiamo camminando mano nella mano io sto indossando il mio cappotto con il cappuccio e lei ha indosso un abito sinuoso ricoperto di pizzo e altre cose sembrava che mi stessi già immaginando slavia nel mio mondo insieme a me e non solo slavia questo abito sarebbe più adatto a duliana questo bel sarafan sarebbe bene sua lisa questa gonna e questo cardigan sarebbero perfetti per l'era se solo fossero reali no potevo vederle sentirle persino toccarle ma comunque loro sono qui mentre io semplicemente non appartengo a questo luogo e alieno per me sto solo aspettando l'occasione per andarmene sto aspettando dato che ormai nulla dipende da me ho sospirato ho appoggiato la testa sulla scrivania e mi sono addormentato quindi non è successo nulla stiamo dormendo e ok allora io mi fermo qui anche per oggi quindi la situazione continua ad essere molto sospetta non ci sono mai date e altri riferimenti a come uscire e abbandonare questo campo cioè io sono veramente curiosissima di venire a capo di tutta questa faccenda e soprattutto riusciremo a trovare shurik o forse shurik è riuscito a fuggire e abbandonare questo campo in qualche modo lo scopriremo solo la prossima volta quindi io spero che questo episodio vi sia piaciuto mi raccomando pollice in su iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo in un prossimo gioco ciao